Le organizzazioni sindacali in funzione pubblica CGL, Fit Cisle e Will Trasporti hanno proclamato per giovedì 13 luglio lo sciopero dei dipendenti di tutto l'ambito in cui opera la società di regolamentazione dei rifiuti 4 Agrigento Est, tra cui Canicattì. Lo sciopero è stato proclamato per rivendicare il pieno rispetto del contratto di lavoro utilitalia, completamente disatteso anche dalla nuova SRR e di conseguenza da tutti i numerosi gestori che operano nei comuni soci. I lavoratori dipendenti della SRR percepiscono con enorme ritardo gli stipendi mensili, alcuni dipendenti devono percepire tre mensilità. La società dei rifiuti non rispetta il contratto nazionale di lavoro per quanto riguarda le scadenze dei pagamenti delle spettanze mensili che devono essere versati dal 27 alla fine del mese cui si riferisce la remunerazione. I lavoratori molto preoccupati che la fase di avvio della nuova gestione della SRR riproponga le forti criticità presenti nelle vecchie gestioni degli ato in liquidazione, mezzi vetusti, sicurezza carente, mancanza dei dispositivi di protezione individuale. Alle preoccupazioni per i ritardi della SRR si aggiunge la gravissima omissione della data all'ambiente, società a totale partecipazione dei comuni di Ricata, Canicattì, Palma di Montechiaro, Campobello di Ricata, Ravanusa, Naro e Camastra, nella liquidazione a tre mesi dal passaggio di competenze con la SRR delle spettanze del TFR, permessi retribuiti, ferie non godute, errate i tredicesima e quattordicesima, premi di produttività. Il commissario, scrivono in una nota i segretari di categoria di Cigelle e Cislewil, rispettivamente Iacono, Nero e Stella, assiste enerme a tutte queste criticità senza cercare minimamente una soluzione. Dimentica che è suo compito incidere e sostituirsi ai sindaci che non pagano. Vorremmo sapere di cosa si occupa il commissario, considerato che la SRR ha un presidente, un consiglio di amministrazione e un direttore generale nel pieno delle funzioni che svolgono la normale attività. Informeremo il prefetto e la presenza della regione della politica inutile, se non dannosa, dei commissariamenti.